amici vicine e lottani buongiorno eccomi qua con un video creazioni ecco a voi cosa ho fatto con il tornio che mi è stato gentilmente regalato da tutti quegli amici che hanno accettato di contribuire alla raccolta fondi proprio per acquistare questo tornio elettrico voglio ringraziare principalmente chi pur non avendo partecipato alla raccolta fondi non si è sentito il dovere di togliermi da facebook o maledirmi o prendermi a male parole vabbè comunque chissà cosa nella sua coscienza agisca di conseguenza io la mia coscienza è a posto per cui agisco di conseguenza allora davanti a questa meravigliosa bottiglia di vino e xina che dice sì è vero è un ottimo vino abbiamo un vasetto con incise delle pavoncelle che ho fatto per contenere tutte le mie sgordie i pennelli i raspini come li chiamo io questo ha un nome ma io lo chiamo va bene poi ho un buffer per la levigazione dell'argilla quando è abbastanza dura poi barbottina colorata argilla ancora pezzi di argilla che si sono rotti e che poi vedete era troppo fragile e poi provvederò ad ammorbidire per riutilizzare matite per disegnare sopra l'argilla questi sono stampi in legno per alcuni lavori e poi passiamo agli ultimi lavori che ho fatto allora qui c'è questo vaso ovale questo canopi davvero guardate lo sarà un canopi e questo posa cenere con la cigli questi sono ancora in fase di asciugatura poi guardate la differenza tra vabbè non volevo farvi vedere subito guardate la differenza di colore tra l'argilla asciutta e l'argilla ancora umida aspettate che metto questi pezzi rotti qui così allora vedete mentre uno è grigio scuro l'altro è quasi bianco poi passiamo ai lavori allora qui c'è questo questa ciotola che ho fatto per una mia vicina di casa che mi è stata vicino durante la mia separazione durante la mia separazione appunto non voglio aggiungere altro poi qui dietro c'è un altro vasetto da fiori cioè allora non è proprio da fiori perché non so se la vernice resiste so però che si possono mettere i vasetti all'interno poi abbiamo questo che è estivissimo perché io lo adoro per quanto è estivo qui dietro nascosta c'è un'altra ciotola che è fatta con il ho fatto in modo che la vernice scivolasse giù dalla superficie e poi ho lucidato qua abbiamo un mega ciotolone per l'esposizione dei bijoux infatti ho messo questi due braccialetti per far vedere che poi quando finalmente forse si potrà di nuovo esporre e fare delle altre fiere dei mercatini sarò in grado di esporre i miei bijoux poi abbiamo questo giallo ocra con fiocco nero un'altra chiamatelo come volete poi un porta vaso sempre fatto con la tecnica dello scivolamento come lo dico io scivolamento scivolamento della vernice e all'interno invece è tutto dello stesso colore aspettate che non capisco cosa sia questo ok poi porta candela il pozzo poi mega piattone porta frutta ciotola porta bijoux ciotolina porta tea light ciotolina porta bijoux e questo si può usare come posa cenere porta bijoux tipo quando si torna a casa che non si sa mai dove mettere anelli orecchini ecco questo potrebbe essere una soluzione e poi alla fine un altro regalo per una vicina di casa che mi è stata vicino questa più che la vicina di casa è proprio un'amica che mi è stata vicino durante la separazione e rosso con questi intagli che ho colorato color oro e dentro sempre una candela che ho fatto io perché anche le candele le faccio io e questa questa è alla vaniglia mentre l'altra se non sbaglio è alla cannella vediamo se no e alla molto natalizia allo strudel allo strudel di mele e niente questa è una panoramica degli oggetti che ho già fatto alcuni li ho già anche regalati e questi sono gli oggetti che ho fatto in questo periodo sempre soldi e argilla permettendo e tempo soprattutto e niente io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo ciao